svolta improvvisa e praticamente ufficiale su Stefano De Martino. Parliamo di un programma in particolare che è ormai stato affidato a lui. Si attendevano notizie da settimane, ma ora finalmente è giunto un annuncio che ha sgombrato i dubbi dalla mente degli italiani. E il conduttore è pronto a farsi valere ancora una volta con tutto il suo talento. Stefano De Martino si è ormai affermato da tanto tempo come presentatore e con questo programma riuscirà ad ottenere ancora un grande consenso, stando ai suoi seguaci. Bisogna iniziare a far partire il countdown, infatti c'è anche una data da segnare in rosso sul calendario. Andiamo a scoprire insieme cosa gli riserverà il futuro all'ex marito di Belen Rodriguez. A prendere questa decisione su Stefano De Martino è stata la RAI, come riferito dal giornalista Giuseppe Candela sul social network Decimo. Questo programma è molto amato dal pubblico, che non vede l'ora di guardarlo. Intanto, è stato anche svelato che Viva RAI 2 di Fiorello terminerà il 10 maggio, mentre Belve di Francesca Fagnani comincerà il 2 aprile. Da segnalare anche il ritorno di Piero Chiambretti, che martedì 7 maggio esordirà su RAI 3. Come annunciato da Candela, Stefano De Martino tornerà a condurre stasera tutto è possibile su RAI 2, stasera tutto è possibile fino al 13 maggio a lunedì poi Spazio a Cattelan. Come precisato anche dal sito La Nostratve, l'inizio della trasmissione di Stefano avverrà il prossimo 18 marzo e ci saranno complessivamente 9 a 10 puntate. Dunque, un bel bottino per lui. Stasera tutto è possibile lo ha iniziato a condurre dal 2019, ma Stefano De Martino ha anche presentato ultimamente da Natale a Santo Stefano lo scorso 26 dicembre ed è anche stato la voce narrante del collegio.